Indipendente, di nuova costruzione e dagli ampi spazi interni ed esterni. Ci troviamo a Mendicino, a Contrada Rosario, a circa 2,5 km dall'ospedale di Cosenza e proponiamo in vendita una porzione di villa bifamiliare dislocata su due livelli più un piano seminterrato. Internamente non è stata né divisa né rifinita, risultando in questo modo facilmente personalizzabile nelle divisioni e nelle rifiniture. Ha una zona giorno di circa 110 m2 interni, un'ampia zona notte in cui è facile ricavare tre comode camere da letto e due bagni, un garage di circa 100 m2 ed un giardino di circa 4,70 m2. Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento per visitare questo immobile prendi contatti con la nostra agenzia immobiliare.